Manu, ho l'inglese un po' arrugginito, sono tanti anni che non gioco più, ma puoi dire un po' le parole? Allora, turn dai, solo, o time, non alone, alone, solo alone, non esiste, ma non, uomo, ti prestano via uomo. E qual era la parola che più dicevete in inglese di calcio? Squeeze, quando l'arrivo dietro la buttavi lunga, squeeze, hai tutte le saliva, squeeze. Ragazzi, cominciamo, no? Ripasso domenica. Cominciamo, com'è? Let's start. Let's start. Let's start. Let's start. Croccheta. La puntata numero 45 di Crocetas, Matteo Palmigiano Borcavalero, Marco Russo. Che bello essere qui con voi, bellissimo essere qui. Applausi con Manuel Pascali. Ciao Manuel. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Benvenuto. Una vita in Scozia. Un italiano all'estero, una vita in Scozia. e noi dobbiamo sapere tutto su come si... L'italiano all'estero, è proprio quello. Il concetto, il tema è quella cosa di cervelli in fuga. Non è il mio caso. No, però, sette anni, oddio, non so quanto tempo abbiamo, però sono uno che parla tanto, quindi... Però è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Sì, ma poi devi sapere che il cui presidente Matteo Palmigiano, alias il Puma, è tipo il più grande fan italiano del Kilmarnock. No, e beh, forse troppo, diciamo che mi piace molto, ma poi ti spiegherò per cosa. Ma prima che andassi io... No, in realtà coinciso anche con i tuoi anni. Ma dai, ci vuole. Poi ti dico perché. C'è un motivo abbastanza particolare. Ma anche io non lo so, voglio sapere. Ok. Tu mi hai detto questa cosa qua, io guardo il Kilmarnock. Come stai? Ti sei ritirato a giugno? Ultima esperienza. Sì. Adesso? No, sto bene, mi sono ritirato a giugno. Non ho... Cioè, è stata una decisione, non proprio quella classica di mi ritiro il 30 giugno, partite, lacrime, no. Meno male, perché se no non so se ho visto il documentario di Beckham, la serie, tosta. Perché comunque lui sapere che quella fosse l'ultima partita... Probabilmente io la sapevo, la sentivo mia, però ho detto, ma chissà. Erano un po' di anni che ci pensavo, poi ho vinto il campionato, la retrocessione... Con il San Giuliano. Con il San Giuliano, sì, la retrocessione Amara, con la Triestina, però ormai ho abbracciato con la filosofia che nulla accade per caso, è tutto un percorso di insegnamento. Quindi si vede che nel mio percorso doveva esserci anche questa tappa e mi sono ritirato, sì, dal calcio giocato formalmente, però è come per Borca, una passione infinita da sempre. Quindi ho riniziato la mia carriera subito, ho avuto la fortuna subito di ributtarmi dentro come assistente coach manager a San Giuliano sempre. e ho iniziato benissimo, dopo quattro giornate esonerati. Con chi? Con chi eri? Con Manu Iori. Ah, beh, colonna e colonna del Cittadella. Che conosco da vent'anni, abbiamo iniziato, dopo quattro giornate è già finita la nostra avventura, però ritornando a quello che ho detto tutto, Every Day is a School Day, dicevano da quelle parti lì, sono d'accordissimo. Il mio nuovo tatuaggio, Every Day is a School Day, mi piace. Ma scaliamoci subito, quest'atmosfera, magari sì, non tanto sole, non potrei dire. Il sole è poco, no, sì, è tosta, ma più che altro poi la cosa brutta. Però l'atmosfera, sento proprio, sì, la sento lì, la sento. Della birra, sì, no, però la cosa brutta era che proprio a un certo punto il tuo corpo, la tua testa, naturalmente si dimenticano di a dove arrivassi, quindi del sole, veramente. Perché poi a un certo punto lo vedi apparire e dici, ah, che bello. Cos'è? Però adoro a cinque minuti. Cinque minuti, non di più. Le four season in a one day. Ma ci arriviamo in tutto questo, perché sono super curioso di capire. Facciamo una scorpacciata di questo. Sì, perché sono curioso di capire dove è nata questa idea, cosa ti ha spinto, cosa c'è dietro e cosa c'è stato, perché è stata un'esperienza clamorosa, avete fatto delle cose incredibili con quella squadra, con il Kilmarnock in Scozia. Nel tuo percorso, dicevo, c'è una sfiga. Che è una sfiga che c'è a comune a noi. Aver incrociato Marco Parolo. Dov'è che avete giocato insieme? Allora, come ti anni hai? 42. 42 anni. Hai beccato... Il Parolone Nazionale. Il Parolone Nazionale. Ebbene sì. Incredibile. Noi possiamo parlarne per ora un po' di questa... Beh, Marco, avrei anche io qualche aneddota da raccontare su Monarcho. Ma secondo me ti stuzzica, eh. Vediamo. Vediamo, ti ha mandato un messaggio. Marco Parolo per il suo ex compagno Manuel Pascali. Grande Manu! Ma cosa sei? Un gormitino lì a Crocchettas. Un gormitino. Invece, ma vuoi raccontare a tutti come si concludevano le serate dopo che andavamo allo Sherwood? Grande Manu! Ah, ok. Ora mi ricordo. Alla Play ero più forte io, sicuro. Alla Play dice che mi parte noi. Team Sherwood. No, no, no. Team Sherwood. Oddio. Il Paro è grandissimo. Anche perché poi veramente vivevamo in simbiosi. Perché lui di Gallarate, io di San Donato, facciamo i viaggi assieme verso Foligno. E poi eravamo compagni di stanza anche in ritiro. Peccato per lui perché sono un russatore viale. Tant'è che spesso portavo i tappetti per le orecchie ai miei compagni. E Paro abbiamo fatto un anno bellissimo perché poi abbiamo fatto i playoff per andare in B. Con Cittadella. Con Bisoli in panchina. Lui si riferisce a quelle serate poche perché comunque dai, pur giovani. Loro erano giovanissime. Perché Marco è più giovane di me di cinque anni. Però, oddio, c'era questo posto dove andavamo ogni tanto a mangiare giovedì sera. Così a mangiare qualcosa in compagnia. E c'era un nostro compagno di squadra, giovane, che era fissatissimo con la sua grandissima macchina. Che non menziono perché ho fatto necessità. Però le serate finivano ed era proprio una roba clamorosa. La curava proprio in maniera maniacale. E noi dopo una birretta, due birrette, stile antidoping, finiva la serata con uno scherzetto goliardico. Tipico da uomo, da uomo medio italiano, sulle gomme del malcapitato. Che poi lui non se ne accorgeva. Diceva qualcuno ieri sera ha fatto i bisogni, devo beccarlo. E eravamo noi. Fabio eravamo noi. Sai quei cani, i proprietari che portano i cani a passeggio e non... Comunque questa è la prova, che Marco Parolo non è mai stato una persona seria. Perché noi diciamo sempre, quando lo vedevamo da calciatore, diciamo Vabbè Marco Parolo è proprio l'emblema del calciatore seria. Lui è un altro bello scemo tra gli scoletti. Per quello andavamo d'accordo. L'abbiamo capito bene in questi anni. La tua storia in Italia tra serie C, serie B e poi nel 2008. 2008, sì. Kilmarnock, Scozia. Io voglio sapere innanzitutto, la prima cosa che hai fatto quando ti hanno detto Oh, c'è Kilmarnock. Allora, ero a forma intera. Sto facendo tutti gli stereotipi dei ragazzi che ciocano a calcio. C'è tra l'altro la cosa più lontana da Kilmarnock del mondo. Allora, la cosa nasce un po' di tempo prima. Porrini, Sergio, ex giocatore della Juve, finisce la carriera con me a pizzighettone. Anni di C2 in cui vincemmo il campionato assieme. Lui continuava a dire, Pasca, il calcio scozzese è il tuo. Bam, bam, bam. Botte in testa, vai, scivolate. Va bene, lui aveva giocato tre anni ai Rangers. Mi fa, c'è un ragazzo che cerca di portare ogni tanto dei ragazzi italiani su. Ha dei contatti. Ti interesserebbe? Mi fa, guarda, Sergio, sì. Però la cosa finisce lì. Succede che io quell'anno sono a Foligno con Marco. Finisce la stagione benissimo, ho fatto benissimo tutti così. Sergio mi chiama, mi ricordo, io sono a Formentera con gli amici. Quindi sole, mare, immaginate questo scenario, onde del mare. Ubriachi. Chi è il Marlo? Mi chiama e fa, guarda Manuel, ti ricordi? Ti avevo detto, sì, Sergio, ok, ok. Allora era venerdì, mi ricordo. Mi fa, mercoledì prossimo sono in Italia perché loro fanno il ritiro a Lucca, al Ciocco. una struttura che usano anche gli arbitri. Faccio, perfetto, Sergio, torno domenica, ho dieci giorni per prepararmi. Mi fa, no, mercoledì prossimo, nel senso, quello che arriva, mi faccio, porca vacca. Va bene, non mi sono allenato, via, butto giù. Ragazzi, devo fare un po' di tecnica. Quindi ho fatto due giorni, sono tornato, ho fatto tre giorni di massacro fisico per prepararmi perché era la mia chance. Quindi ho preso la mia macchina da solo e sono andato a Lucca da solo, senza nessuno. Sono arrivato lì, ho parcheggiato e entro nella hall, da sopra si vede alla piscina e vedo sto gruppo di bianchi, bianchi, segni con le maglie scottate in pieno che continuano a tuffarsi, tuffarsi, a fare un casino così. Entro e arriva in corso, viene in conto il mister e mi fa, ok, ci presentiamo, inglese scolastico, non capisco niente perché lo scozzese è un dialetto pazzesco e inizia la mia avventura con quattro giorni di allenamento lì, amichevole, fatta con la classica amichevole a ritiro contro quelli del posto, che finisce, faccio 40 minuti in cui ho fatto il carabiniere per 38 minuti. Quindi era, digli a loro che devono andare piano, i miei compagni, digli a loro di non rompere le scale. Quindi ero in mezzo a fare ragazzi piano, no piano, lo scozzese è l'amichevole non esiste. Certo. È una partita, quindi via dentro. E poi è finita con le faremo sapere. Ho detto vabbè è andata, io ero andato proprio col frame of mind di imparare, di andare e dire vabbè io vado, poi tanto cosa ci perdo? Niente, faccio quattro giorni, imparo un po' l'inglese, mi alleno e vada come vada. Invece poi mi dissero vieni su, facciamo una prova un po' più concreta, perché con i boscaioli non è attendibile e sono finito su e via. Sette anni. Bellissimo. Sette anni, niente. Sette anni di fila con la stessa maia con il Killmarnock in Scozia. Comunque vedo dei parallelismi. Eh infatti, bravo. No, perché lui ha detto che ha smesso senza sapere che doveva smettere. Anche io ho giocato mia ultima parte senza sapere che doveva essere la prima partita. Sono andato da un posto di sole come Mallorca, che è vicino a Formenta, direttamente in Inghilterra, quindi il sole mai più visto. E siamo lì su... Infatti, Borca, non te l'abbiamo mai chiesto. Com'è stata la tua chiamata appunto del West Brom? Chi ti ha chiamato? Com'è stata? È bellissimo perché a me mi voleva il Newcastle. Va bene. Quindi giochiamo amichevole contro di loro d'estate, mi vedono, sì, vogliamo, mi offrono il contratto, tutto fatto. E noi si va a giocare un altro amichevole a West Bromwich, contro West Bromwich. Dopo dieci minuti che entro in campo, dice che quelli del Newcastle sono alzati e sono andati via. Il mio procuratore era con loro e dice che sono andati via. E dicono che... Ma le Ducatia? Ma le Ducatia. Quando era già tutto fatto, però mi fa, ma c'è un piano B? E gli ho detto, no, prima devi parlare perché sapevo che era quello. Perché non volevo andare, ero fatta l'idea del Newcastle, che era la squadra. Poi Newcastle in quel periodo era un po' come ora, no? E niente. Ma hai fatto così male quei dieci minuti? No, nemmeno avevo toccato la palla. Non so com'è andata a finire così. E sono venuti a mangiare come il mio procuratore, mi hanno convinto e siamo andati... Come sempre. Come sempre. La storia di Barca Valero e la cena. Il vino e la cena. Il vino e la cena che portano alle svolte. Sette stagioni anche il Marrock. Sì. Sei entrato nella Hall of Fame di questo club. Ma che signi... Hai vinto la Coppa di Lega, che è l'evento storico di questa squadra, contro il... Celtic. A Dam Dam Park, dove gioca la nazionale scozzese. Infatti quando vedo loro che giocano, li dico io, io ho giochato là. No, è bellissimo Dam Dam Park. Ci hai giocato? Una delle poche convocazioni con la nazionale ero in tribuna. È stato fuori. Però è un bel gruppo senza senso. Cosa porta... Tu ci hai raccontato un po' il progresso, come ci sei arrivato. Ma com'è? Cioè, per un italiano, in quegli anni, spostarsi non a giocare come Donna Roma a Paris Saint-Germain, come Tonali al Newcastle di oggi, ma un ragazzo abituato a farla B e per farla C, scegliere di andare in Scozia, in questa Scozia, in questo tipo di squadra. Che cosa c'è dentro questa storia? Il sogno. Il sogno di un bambino di giocare a quei livelli, di giocare davanti a 50.000 spettatori, di avere il nome sulla maglia. Quello è stato veramente il motore della mia scelta, perché io arrivavo da anni di gavetta. Ho iniziato interregionale, C2, C1, e mi sembrava di meritare di più. Poi sicuramente no, ma era una mia convinzione. Probabilmente non riuscivo a realizzare il sogno, questo sogno. E quando si è spuntata questa opportunità, io ho detto io vado. Cioè vado perché vado. Quando io so che sembra naif dire volere potere. Però io quando sono andato lì, quei tre giorni in ritiro, ho detto fisicamente non ce la faccio. Perché non ce la faccio, ero in vacanza, ero giovane, sì. Però ci arrivo col cuore, con quella roba lì. E quando sono andato su, io paradossalmente, appena sono arrivato e mi hanno detto va bene, ti facciamo il contratto dopo dieci giorni. Io ho detto ok. e mi dissero, beh la casa non la scegli, dove posso andare. Guarda, abbiamo tre appartamenti all'interno dello stadio, se vuoi. Io lì non è che ho pensato ad altro. Ma viene sulla mia compagna, che poi è diventata la mia fidanzata. Mi metto a Glasgow, vado a Kilman, anche un altro. Ho detto no, va bene, va bene. Cioè mettetemi dove devo stare. Perché io voglio stare qui e tutto il contorno è un contorno. Io mi alzavo la mattina e vedevo lo stadio. E quindi poi mi ricordo essere entrato in uno spogliatoio con la mia maglia, la presentazione 29, Pascali, perché all'epoca non si facevano le porcate, i cognomi, no. E quello veramente era uno stimolo per qualcuno. Tu dici una cavolata, no, il cognome di tuo padre, il cognome di tuo nonno, vederlo lì era una qualcosa di bello, qualcosa tra i mille obiettivi. E vederlo io pensavo a quello e basta. E poi a volte dico, hai avuto coraggio. Quello sono uno che non si loda, però il coraggio che ho avuto non è da tutti. Perché veramente io sono andato con lo zaino. Quando sono atterrato in Edimburgo, come nei film, c'era un ragazzo con il cartello Pascali, Edimburgo e Chiamano è un'ora e non ho detto la parola perché non capivo niente. I primi colloqui con i mister non capivo niente. Perché poi lui a mister... Ma non deve essere stato facile, però dai, veramente non capire... Io mi ricordo che lo scozzese... Lui è tipo... Beh, Ferguson, ex Ferguson, è scozzese. Quando parla lui in inglese si capisce niente, hanno questo accento forte. E io le prime partite, quando è capitato, abbiamo iniziato fortissimo. Però le prime sconfitte, che il mister perdeva la testa, stile Alex Ferguson con Beckham, erano tutto un fucking, fucking, fucking smash, fucking... Più niente. E la gente, però... E beh, cioè lì è proprio a me più a passione. Passione... Ci siamo, stesso binario. Molto bello. La cosa della maglia poi mi ha... Sì, è vero. Mi è piaciuta veramente tanto perché, come dicevi giustamente, adesso veramente serie D, serie C... Tutti hanno il nome... Ma prima era una cosa... No, era... Se hai arrivato... E lì è arrivato, cioè... La maglia significava se hai arrivato lì. Poi starci... Difficile. Ma queste domande... Vai, vai, vai. La pasta, il caffè... C'è proprio gli stereotipi. Andiamo sugli stereotipi. Facciamo una cosa proprio classica. Da italiani. Da italiani. Allora, c'è... C'è, perché la trovi nei supermercati, però se hai voglia di andare a mangiare veloce, finisci l'allenamento, dai, andiamo a mangiare una cosa veloce, è un dramma. Perché ti devi sedere due ore, perché comunque è così. Si trovano i ristoranti buoni, ma non ovviamente come qui. E mai andare da uno scozzese che ti offre pasta da mangiare, perché è un disastro. No, no. La pasta più brutta che ti ha... La buttano dentro l'acqua senza farla bollire, senza sale, senza niente, e poi grazie al cavolo che non ti piace. E comunque loro non sanno cucinare. Impari anche questo, che noi siamo fortunati perché abbiamo un'educazione culinaria. Cioè, due robe le sai fare. Il petto di polo e il bresaule le sai fare. Loro niente. Tutto take away, sempre, delivery, sempre. Buongiorno, rovesciamo la prospettiva. Gli italiani all'estero, gli spagnoli all'estero. Cioè, com'è stato per te il primo approccio, sì, con il West Brom, ma in generale anche in Italia? Perché è una cosa di cui probabilmente non abbiamo mai parlato con te. Cioè, com'è stato il primo approccio con l'Italia? Vabbè... Puoi dire anche cose brutte. Sai che noi italiani... Sai che non ero mai venuto in Italia prima di giocare. Cioè, avevo giocato a Napoli una volta e basta. Cioè, giocare, andare, la notte prima dormire, giocare e tornare, non è che vedi niente. Quindi, vabbè, capisci un po' la città, arrivi a Firenze, la storia, la cultura, eccetera, eccetera. E c'avevo questa immagine di Batistuta un po' nella mente. Ma io non volevo nemmeno venire all'inizio, perché la Fiorentina arrivava dai due anni difficili, quindi io non volevo venire. Però comunque subito ho avuto un bel impatto, perché alla fine Spagna e Italia siamo un po' molto più simili. Cioè, la differenza non è tanta. Però in Inghilterra, che è stata la prima esperienza, nell'estero è stata scioccante, diciamo. Sono arrivato quasi alla fine d'agosto, mi hanno messo in un albergo di periferia in una stanza sottoterra che vedevo le gomme delle auto che passavano così. No, è incredibile. E ha piovuto. per una settimana di fila senza mai fermarsi ad agosto. Per me è stato scioccante. Gli arrivavo da Mallorca, come ho detto prima. Il tuo welcome. È stata dura. Non c'era nessuno che parlasse spagnolo nella squadra, che di solito è un sudamericano. Niente, zero. Il flaco Jacob non c'era ancora? No, non c'era nessuno. C'avevo due portoghesi che con loro un pochino un mix li facevamo. Però è dura. Poi tanti compagni scozzesi, irlandesi. e per me è stato complicato. È un amico di croquette. Con lui riuscivamo a parlare un po' meglio perché alla fine quelli che vengono del nord d'Europa parlano un inglese molto come noi. Tu lo sai che hai mancato di poco, Manu, l'opportunità di dare una pedata a Borca Valero una partita contro il Celtic. Perché Borca? Perché quando siamo retrosessi con il West Brom mi dice io non volevo giocare in Serie B in Inghilterra e volevo trovare uno spazio. Il mio allenatore che mi ha portato in Inghilterra è andato a allenare il Celtic. Ok, chi era? Tony Mombrey. Ah, certo. Il famoso Tony Mombrey che mi diceva Borca Valero quando mi guardava Ma raccontagli di quel famoso discorso all'allenamento. È stato bello. Le prime settimane di allenamento mette le 11 che ti giocavano il giorno dopo a chiacchierare con lui e inizia a fare e anche come lui e finisce di parlare mi guarda fisso e io no, 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 per favore no e mi fa Borca hai capito qualcosa e le ho fatto e no. E lì tutti sdraiati per terra perché ovviamente Non hai giocato il giorno dopo. Ho giocato ma poi Che poi il dramma Borca era quello di dire sì, sì, classico sì, sì però se c'è una domanda dietro è un casino perché loro aspettano la risposta dove c'è capito e gli ho detto sì, sì e quindi Infatti soprattutto con mio compagno scozzese Beatty mi ricordo ancora L'attaccante ha fatto il Rangers Ti giuro che era impossibile ma mai capita una parola Ma io avevo compagni neozelandesi australiani inglesi che quando due giovani scozzesi si mettevano a parlare non capivano niente ma perché è veramente poi pesante e loro se trovi il ragazzo di 30 anni si sforza a farti capire gli altri sempre niente no, poi sono personaggi che hanno tanto proprio personalità via fieri quindi no devi imparare lo scozzese io quando facevo poi le interviste con qualche poi parolina simpatica scozzese tipo spiegavano tutti e tipo allora i ragazzi i bambini si dicono in Inghilterra kids che non esiste in inglese però loro appena sentivano magari poi le parolacce non farmi dire che è la cosa la prima cosa che si impara però quando le dicevi loro si piegavano perché comunque era come sentire uno straniero abbracciare la loro lingua li rendeva orgogliosi tu sei stato sette anni sei stato capitano oggi se vai a tanto l'accento giusto com'è? Kulmarnok Kulmarnok sì i miei quando venivano su Kilmarnok era proprio scritto così Kilmarnok scritto così infatti quando mi chiedevano ma dove stai giocando in Scozia sì e dove? contro i Celtic ah ma come si chiama la squadra no lascia stare poi facevano scommetti sì allora la conoscevano tu lì oggi lì sei tipo sì che poi veramente dopo ti accorgi ma ancora adesso non mi accorgo sì qua ragazzi ne avrei da raccontare qui praticamente il primo anno mi presento al debutto in casa questa credo sia la seconda o terza partita perché mi presento al debutto in casa e io voglio a seconda in video c'è una bella foto di Manuel al primo anno hai detto? primo anno e ti spiego perché avevo i capelli più o meno come adesso però volevo impressionare quindi sabato mattina prima della partita li ho rasati a zero personalità bianchi cioè perché bianchi perché era il primo di agosto abbronzato la pelle si vedeva ammonito dopo un minuto e mezzo mi ricordo pagina del Scottish Sun The Italian Assassin no giallo dopo un minuto abbiamo vinto un a zero musichetta del Godfather alla mia uscita del campo ma che dici? mi avevano messo una croce sopra alzavo un braccio giallo alzavo un braccio giallo e questa quindi credo sia la seconda o terza perché il look è rimasto così record di ammunizioni quindi? un anno 18 18 per fortuna non lo sapevo ma c'era una regola differente insomma è fighissima che davano un punteggio ad ogni ammunizione quindi tu potevi esempio se una punizione era per simulazione punteggio massimo 5 punti un punteggio era magari per una trattenuta 4 per un fallo di gioco 3 quindi tu 15 punti da somma di ammunizioni potevi anche averne 5 o 3 quindi è una roba figa a B18 sono tante però si mi senti dire si ma del calcio scozzè di shot 40 partite gente che se ne intende di ammunizioni fai ranking infatti chi è che era il tuo rivale di ammunizione Scott Brown idolo di tutti la più cattive del mondo secondo me io poi ho fatto un periodo in mezzo i primi due anni che giocavo in mezzo mi sarebbe piaciuto giocare di fianco a lui io la passavo a lui e picchiavo gli altri e Scott è uno che bel cattivello soprattutto quando la palla è lontana ti rompe le scatole non so se vi siete mai incrociati voi però magari ti rompe le scatole e palla lontana dirty talking bravissimo però poi fuori è straordinario a modo ma ti è mai capitato di finire faccia a faccia con Scott Brown ho una foto sì sì no ma io dai sono focoso no poi cavolo Scott Brown era un'icona loro diciamo sempre stato uno passionale anche in campo soprattutto e quindi quando mi venivano faccia a faccia dai è bello però il Puma vuole parlare di cosa sì prima una piccola cosa ha incrociato Massi Donati anche che è stato nostro collega sì è stato lui l'ultimo anno credo perché poi lui l'ho rincrociato perché ha fatto un percorso all'Hamilton come allenatore dei giovanili e lì tra l'altro ci incrociamo loro battere i Celtic che era una roba più unica che rara e a fine partita l'ho aspettato gli ho chiesto la maglia e quando lui mi ha chiesto beh la tua non me la dai io ero già preoccupato come si fa cosa devo fare devo pagare e ce l'ho ancora già la dava cinque donati sì che grande Massimo Donati e la dovevi pagare la tua maglia e oddio i piccoli club come Raichel Mannock te ne davano una decina poi sai che i magazzinieri non so a Firenze ma sono tutti belli rompiscatole perché magari succede spesso dipende dalla squadra c'hai sempre un modo di fare sì perché comunque magari tu la dai via e loro mi devo mettere a farla con la stampa quindi si rompono le scatole bravo Massimo Donati bella la sua avventura fin qui all'Ignago promosso l'anno scorso sta andando abbastanza bene in Serie C adesso ma il Puma vuole parlare di è il momento vai Danny Invincible ah madonna che idolo e beh lui era un sex symbol dai non c'è la foto Danny Invincibile parliamo di chi di chi è Puma di chi stiamo parlando diciamo attaccante comunque attaccante giocava anche esterno ogni tanto australiano io mi sono naturalmente innamorato il cognome ma anche lui anche lui che era un ragazzo allora lui incarnava il tipico italiano bello caschettino australiano anche lui non parlava una parola non spiace una parola di italiano però il cognome Invincibile sono maglie incredibile fantastico poi Danny anche Danny è bello si è chiamato Teodor Danny Invincible che poi beh loro vanno tanto di nickname lui era proprio Danny non Daniele naturalizzato australizzato sì sì il cangurotto il cangurotto erano attaccato facevano un casino correva a 2000 velocissimo arrivava sotto porta perché andava troppo forte prima però è stato un bravo ragazzo nei primi anni il primo anno è stato uno di quelli che mi ha aiutato di più a inserirmi lì dentro in quella gabbe di Matti pensate un po' agli anni 90 gli italiani all'estero eh sì andavano quasi tutti in premier la maggior parte sì Viali Zola Di Matteo Di Matteo Casiraghi Di Canio Di Canio Spagna Carboni Di Canio anche Celtic tra l'altro Di Canio Celtic poi c'è Amoruso Amoruso la storia dei Rangers sono i Bonetti che sono passati alla Scozia ma hanno fatto poco tutti e due gli allenatori Marco Negri ha fatto una stagione più di 20 gol ha fatto 32 gol ma tipo 20 in 6 mesi poi giocando a squash con Porrini ma veramente me l'ho raccontato perché poi ci siano sentiti giocando a squash con Porrini è arrivata la palla nell'occhio ha avuto di staccamento la retina incredibile aveva fatto 20 gol tipo in 16 partite in 1 a 5 con il Dundee United era fortissimo assurda la traiettoria di Marco Negri però oggi è chiaramente un po' cambiato forse all'estero adesso no Borca gli italiani o vanno nei top club e ce ne sono pochi perché sono i top club che comprano gli italiani forse penso a Donnarumma Tonali i Berrati negli anni passati o vai per esperienza per fare esperienza sì sì però si parlava anche fuori prima di iniziare la puntata è l'italiano che per natura è sempre uscito di casa all'estero a vivere a cercarsi la vita nel calcio non costi tanto non è è mammone è mammone perché io quando scusami se ti interrompo io quando sono andato su poi questa roba di portare a qualcuno io chiedevo a qualche ragazzo che pensavo potesse avere una bella esperienza di scuola nessuno cioè piuttosto rimanere senza squadra aspettare piuttosto che prendere andare cioè è una cosa che secondo me nel calcio poi nella vita credo di no vanno però nel calcio c'è sempre quella roba di rimanere attaccato qua una zona di confort ma anche noi gli spagnoli prima eravamo uguali cioè non vedevi quasi mai uno spagnolo poi da quando Escezfabricas sono andati in Inghilterra qualcuno anche sono partiti e ora vanno dappertutto ma prima eravamo un po' un po' così tutti gli italiani a Valencia invece gli italiani a Spagna è un giusto diverso forse quanti c'erano state a Valencia Carboni ma lo ricordo sicuro Carboni Corradi Fiori Di Baio Bucarelli Tavano Ranieri Piccini Zazza Zazza ha segnato anche abbastanza sì sì era anche Pio Vaccari era finito all'Elce ti direi è vero è andato in Romania forse all'Elce il pifferaio altro grande soprannome se proprio se proprio vogliamo adesso però fai anche il telecronista sì fai fai una cosa incredibile è bella fai il telecronista ma cosa fai guardo le partite vabbè è quello e ti accorgi veramente che guardare la partita a casa o lavorarci sopra è una roba totalmente diversa ti viene mal di testa quando devi fare questo perché comunque devi stare attento a tutti i dettagli io faccio il commentatore tecnico per un emittente che trasmette in lingua inglese le partite nel mondo cioè se siete a New York ok e state guardando una partita di serie A di cartello Milan-Juve quella voce che sentite come commento tecnico sono io è lui un po' rocca that's perfect quella lì con il tipico dai è un grande class vai esatto tipo gol wow Patrick that's an incredible fantastic goal you cannot save that però è il tipico accento italiano inglese con l'italiano non lo perderò mai finché parli italiano quotidianamente non lo perdi mai è bello sono da 11 anni in Italia e guarda mi è venuta in mente una cosa e adesso sta spopolando il coro di Sandro Tonali al New York quello di Balotelli al tempo c'era di un coro era fighissimo poi arrivo quando andavo da Starbucks e prendevo il cappuccino il frappuccino il caramello e dicevo Manuel scrivono Manuel uomo bene Manuel invece devo dire Manuel perché per loro è Manu infatti per loro diventavo Manni tipo Man United esatto Manni per loro io Manni Manu e il coro era Manu Manuel Manu Manuel Manuel Pascali ma era bellissimo veramente era figo figo oppure c'era il classico all'italiano come from Italy he's gonna kill you pizza ma veramente la cosa del Godfather me l'ha messa la colonna sonora esatto ma come è follia pura all'NBA c'erano pronta però sì 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 c'erano pronta però non era successa la prima di campionato ma al trial giochiamo col Queen's Park Ranger col QPR di Briatore un amichevole e lì lì ho firmato perché ho fatto abbiamo vinto 1-0 ho fatto gol allora ottantesimo mi tolgono e parte applausi tutto è stato in piedi recuperiamo in qualche modo questo momento quel gol ci fossero c'era un'epoca 2008 ancora i smartphone con i video però è stato bello se scriviamo anche il Marno che sicuramente ce l'hanno gli amici le killings prima di salutarci c'è un'ultima cosa perché c'è una persona Manuel Pasquale che ti vuole salutarci un classico Manuel Pasquale per Manuel Pasquale sì l'abbiamo fatto davvero ciao ragazzi ciao amici di Crochetas scusate avete invitato il mio tre quarti di fratello e non mi avete chiamato non mi avete non mi avete avvisato non mi avete invitato neanche alla trasmissione me l'ha segna al dito questa però ora vi propongo una cosa soprattutto te Marco fai una telecronica stile così Manuel Pasquale recupera palla allarga a sinistra per Manuel Pasquale che cross è in mezzo di nuovo Manuel Pasquale colpo di testa gol bravo però a casa che pensa che ti sei preso i funghetti all'ucinopoli ciao ragazzi ciao ciao però poteva essere vero perché una dote che mi riconoscevano un po' tutti era colpo di testa quindi lui crossava bene ma li hanno mai scambiato ma vabbè ragazzi cioè io ho vissuto delle robe quindi veramente te lo giuro allora una volta c'era questa bellissima usanza che magari hanno anche altre scuole qua in Serie A soprattutto sotto Christmas sotto Natale dove fai praticamente il giorno dedicato Natale e Christmas anche Scorsi dove dedicavano una giornata intera al tifoso quindi ti mettevi nella hall del club e arrivavano sta orda di tifosi che si mettevano in fila e portavano il loro presentino che avevano regalato che preparavano per i bambini e tu lo firmavi era una tua foto eccetera allora esempio anche lì vedevi una fila immensa la gente oggi tre ore però era carino era bello dai e un giorno uno ha portato la foto di Manuel Pasquale e quindi non sono io però la firmo uguale oppure capita su Twitter post lavoro post telecroniche dicono Manuel è stato proprio bravo ma anche come giocatore alla Fiorentina non sono io Borca sei sicuro non l'hai mai visto la Fiorentina ma invece te ti hanno mai confuso Borca sì sì spesso perché in pochi anni più grandi di me a Real Madrid sempre giocava anche con i Galatticos Borca Fernandez sempre centrocampista quindi uno all'altro la foto sua con mio nome all'incontrare un casino poi ora c'è Borca Iglesias perché io sono Borca Valero Iglesias quindi lui Borca Iglesias si è fidanzato con una ragazza che si chiama Maria Valero quindi c'è un casino panda dai bellissima puntata ragazzi ma possiamo fare un'ultima cosa la posso chiedere ce l'abbiamo qua prima di salutarlo perché mi sono divertito talmente tanto che secondo me metto anche io che figo c'è anche mio figlio però non lo uso male eh sì queste sono le sparate questo è la rubrica di quest'anno esatto le crocchettas malvitas con tanto di tag life in sottofondo e vi vogliamo fare è obbligatorio fare così con la testa sì sì serve piano d'ascolto si chiama questo in gergo ok ok perfetto io direi la improvvisiamo un po' possiamo fare l'italiano che vi è più gasato all'estero ok non vale dire Manuel Pascali però certo 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 ok chi inizia devo pensarci ancora un attimo tu ce la pari io parto io che è semplice saranno quasi tutti d'accordo con me io sono molto per zola magic box mi spiace ma quel giocatore poi in Inghiterra che era molto più fisica ancora di quella che oggi fisica fra virgolette nel senso che c'erano più palonate i giocatori che andavano più forte non c'erano tutte queste telecamere eccetera lui piccino con quella qualità faceva differenza per me uno dei migliori italiani all'estero io ce l'ho ci hai convinto io ce l'ho non è chiaramente una chiamata così perché io ci credevo ci credevi in in resto al Chelsea Samuele Sam Dallabona io ci ho creduto l'ho incontrato a un concerto di Ligabue una volta ah si ho fatto la porta Sam Dallabona se non sbaglio campione d'Europa comunque con il Milan perché era era in rosa sai che io ci sto pensando non so se ce l'hai tu Manuel io pensavo Vialli però sai che il vecchio Paolo Di Canio Celtic West Ham eccetera lo spinta all'arbitro quelle cose lì anche Benny Carbone Benny Carbone bello pionieri mentre lo pensi io vorrei dire a Ligabue no a Ligabue che io avevo comprato i biglietti per andare a un concerto e poi non l'ha fatto perché aveva problemi nella voce non sono riuscito a vederlo dal vivo vorrei farlo Luciano possiamo solo per lui tanto che è interista e beh certo teniamolo fuori allora io beh uno che mi ha gasato devo dire abbastanza in quegli anni è stato Pelle in Olanda devo dire mi era piaciuto molto però uno un po' più così nerd che mi piaceva di nicchia Fausto Rossi eh Fausto Rossi Bagliato Lid è vero bravo bravo mi ricordo anche forse un gol al Real Madrid o al Barcellona un gol decisivo con una big mi piaceva da ragazzino mi piaceva tantissimo Fausto Rossi non potevi dire altro te tu sei sempre il solito nerd vabbè bello bello così anche per Cassi aveva giocato al Chelsea Luca per Cassi era stato in quel Chelsea se non sbaglio proprio di Dalla Bona di Cesare ma l'italiano Rolando Bianchi Rolando Bianchi e tanta roba Rolando Bianchi potremmo continuare ancora tanti tra l'altro è andato anche a Mallorca Rolando Bianchi sì 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 Diamanti in Australia al West Ham ci sono tanti sì va bene De Rossi al Boca va bene va bene anche Luca Toni con la canzone Luca Toni peperone ogni volta che va in Germania la tira fuori lui sempre c'è la come suoneria chiudiamo così con gli occhiali con gli occhiali vogliamo farlo lanciare a Manuel il nostro motto ma con un accento un po' Scottish il nostro motto è Cumbia che non c'entra ovviamente nulla guardando in camera Cumbia puoi dire non so Cumbia e poi qualcosa in scozzese quello che vuoi a settimana prossima ciao Cumbia come on lads let's get it iscriviti al canale